Gabbiadini non riesce a calciare Pozzi, respinto il tiro di Pozzi Floccari, zona tiro, prova Floccari, a terra la parata di Da Costa Gabbiadini, parte lui, Barchetti, sul sinistro di Gabbiadini Rosso per Kristicic, rimane in dieci la Sampdoria Ancora Castandello, ancora Jonek che può mettere il pallone dentro, Barchetti, in angolo Lulice per il cross, colpo di testa e palla sul fondo di Conco Prova a liberarsi Lulice per il tiro, non lo effetto a Floccari Perea, ha colpito il pavo Perea, poi ancora Candreva che può rimettere il pallone in mezzo Candreva, colpo di testa e rinvio da parte di Costa Di nuovo Calciogario, si prepara Gabbiadini, Barchetti Poi Conco prova a rinviare, la palla ancora buona, Barchetti la butta via Soriano, in gol per il vantaggio della Sampdoria Ha segnato Soriano, 1-0 Sampdoria Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!